ora avranno 30 secondi per, così, giocare un po' col padro e dare una pulitina provvediamo nel prossimo giro a mettere giù la carta stop, potete scendere, risparmiate gli applausi per quando vado fino in alto, però dopo fateli vedere adesso si preparano le volpi, è una nuova squadra di solferino, siamo pronti? 3, 2, 1, via! anche loro cercano di pulire un po' il palo alla fine meglio, quello che si può fare stop, bravissimi anche le volte, un po' di lavoro l'hanno fatto anche loro ora si presentano i malmessi quando siete pronti dateci un occhiolino 3, 2, 1, andate a pulire il palo possibilmente con il laser se state fermi è meglio perché date fastidio alle persone e magari si fa del mare stop anche per i malmessi si presentano le orchidee un applauso su, fatemi sentire un po' vedete che sono già più chicose rispetto agli altri 3, 2, 1, via! partite che orchidee anche loro avranno un po' di tempo per pulire il palo e dal prossimo giro si aumentano 40 secondi guardate già l'agilità piano e qua si inizia a salire 3, 2, 1, via! stop anche per le orchidee un applauso e il primo giro è molto concluso ora aspettiamo un attimo che compriamo la preziosa panificazione se no poi si rischia di chiedere 3, 2, 1, via! ecco qua iniziano a salire già più velocemente il grasso perde l'effetto o meglio hanno perso il grasso vedete con quale precisione lo buttano sulla carta fermi discesa quella serenissima sono quasi le più veloci a salire che a scendere bene si presentano le volpi e anche loro avranno smizzate 40 secondi 3, 2, 1, partite anche le volpi si, farlo con te, posso pagare con la parte oh ecco qua che si inizia a vedere la salita al pala concentrazione nel tenere su e nel mirare la carta altri 5 secondi 4, 3, 2, 1 e stop anche per le volpi ora si presenteranno i malmessi e anche per loro altri 40 secondi ci siamo 3, 2, 1, partiti anche i malmessi primo mezzettino fatto e via è ancora lunga è la salita c'erano ancora un paio di minuti a Marco 3, 2, 1, partiti anche per i malmessi ora si presenteranno le orchidee e anche per loro 40 secondi su un applauso fatemi sentire solo perché non ci sia nessuno siamo fatti 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 un occhionino quando siete pronte 3, 2, 1 e partiti anche per i malmessi bravo va teni sentire abbiamo bisogno di voi però non è sul bravo Se per caso arriva un dolcino di grasso, e sta a fare per le orchidee, fine, potete scendere. Questo grasso è eccezionale per la pelle del viso, questo veramente ci hanno assicurato che fa mirato. Perfetto, ricontinuiamo il nostro cuore.